Leonardo Di Franco Alcamese, un incarico importante, è presidente dell'Accademia delle Belle Arti di Palermo, è un incarico che arriva dopo altri prestigiosi impegni, ricordiamo recentemente la vicepresidenza della Fondazione Teatro Massimo, dove sei stato impegnato in un non facile risanamento finanziario. Sì, è un incarico che arriva nuovamente, sono già stato presidente dell'Accademia delle Belle Arti nel triennio 2013-2016 e che accolgo con grande entusiasmo, gratitudine e di cui sono veramente molto onorato. Ci sarà molto lavoro da fare perché dopo gli anni della pandemia naturalmente sono molte questioni, soprattutto di carattere gestionale e amministrativo, che vanno affrontate, nuove sfide da cogliere, ci sono le opportunità del PNRR e cercheremo di raccogliere queste sfide e portare dei buoni risultati. Di Paola ha detto che con la nomina di Di Franco possiamo ripartire di slancio. Sì, sono le parole del direttore dell'Accademia, che si occupa appunto della parte didattica dell'Accademia, ma con il quale gestiamo congiuntamente l'istituzione. Sono parole che mi gratificano, anche perché il lavoro lo dovremo svolgere insieme, siamo in sintonia e penso che faremo bene. Tu sei avvocato, insegni all'università, hai avuto anche incariche al Parlamento europeo, però le belle arti sono un po' un gene che porti in famiglia. Ma sì, già mio padre si occupava tantissimo di arte e mi ha trasmesso questa passione appunto per l'arte sin da bambino. Poi in questo caso naturalmente io non sono un artista, ma mi occupo di attività gestionale e amministrativa, ma in un campo artistico e questo chiaramente per me è un orgoglio. Che sbocchi può dare un'Accademia delle Belle Arti ai giovani che cercano anche un futuro occupazionale? Perché sai, c'è lo stereotipo che gli artisti non rappresentano un lavoro, una professione, insomma non riescono mai a sbarcare il lunario. Ma in realtà l'Accademia delle Belle Arti, che è un'istituzione di alta formazione artistica, in un certo senso è equiparata alle università, ma nel settore appunto accademico delle arti figurative, ma non solo, dà moltissime opportunità e moltissimi sbocchi professionali. Il primo che mi viene in mente è l'insegnamento, poi naturalmente quando si parla di Belle Arti si pensa soprattutto alle arti figurative classiche, alla pittura, alla scultura, all'incisione, ma oggi ci sono nuove forme espressive che danno grandissime opportunità di lavoro, penso al design, penso al cinema, penso alla fotografia, che ormai appare tradizionale, ma è sempre di grande importanza. È una formazione accademica, certamente dà grandi opportunità per il futuro ai giovani che hanno naturalmente questa vocazione, questo talento, e possono studiare e studiare in un'Accademia all'avanguardia come quella di Palermo per cogliere tutte le opportunità che possono trovare nel mondo del lavoro.